Inaugurato il primo tratto della bretella di collegamento da via Sant'Elena a via Lamaria. Un tratto stradale lungo tre amministrazioni. Immaginato infatti durante il mandato dell'ex sindaco Ciro Borriello, il progetto ha visto la posa della prima pietra nel 2019 dal sindaco Giovanni Palomba ed è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Luigi Mennetti. Un asse di collegamento importante realizzato interamente con fondi comunali sul quale tuttavia continuano gli interventi e i lavori e che consentirà di decongestionare in modo evidente il traffico urbano alleggerendo il flusso automobilistico su via nazionale. Presenti tra gli altri l'assessore ai lavori pubblici Michele Polese e il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Canaraia. Un progetto considerevole che dovrebbe completarsi con il collegamento di via del Monte e via dei Monaci e che almeno per il tratto inaugurato questa mattina, così come nelle intenzioni del primo cittadino, dovrà essere intitolato ai quattro ragazzi vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova.